Buongiorno a tutti e a tutte, sono felice di poter portare il mio saluto anche quest'anno a questa bellissima iniziativa, saluto l'amico Carmine Marinucci. Tengo molto al lavoro che Di Calter sta facendo, ormai da anni ci siamo incontrati, tanto tanto tempo fa la prima volta quando io ero un membro della commissione settima della Camera, che appunto si occupa di cultura e istruzione e la grande intuizione di Di Calter ma anche di tutti coloro che contribuiscono a questa iniziativa è quella di mettere insieme la difesa del patrimonio culturale italiano con la capacità di diffondere la cultura digitale e in questo momento questa è una sfida cruciale, ovviamente lo si fa nella settimana dedicata all'Europa, lo si fa ricordando Antonio Ruberti che ovviamente è una figura straordinaria da questo punto di vista, ma lo si fa con lo sguardo rivolto al futuro sapendo bene che le sfide che oggi ci pone l'intelligenza artificiale, tutte le questioni etiche e politiche legate alla diffusione della conoscenza, al diritto di accedere alla conoscenza e quindi anche all'utilizzo consapevole di queste tecnologie sono sfide importantissime che riguardano tutti noi e riguardano in modo particolare le nuove generazioni, quindi il mio saluto è anche un ringraziamento per il lavoro che è stato fatto in questi anni e per la volontà di portarlo avanti nella consapevolezza che c'è moltissimo da fare, che c'è una strada molto lunga davanti a noi per far sì che queste tecnologie contribuiscano al benessere collettivo e non sfidino invece la nostra idea di umanità, l'abbiamo detto, l'ha detto l'Europa nel suo AI Act, lo dicono tutti i provvedimenti generati almeno da coloro che credono nella centralità dell'umano, la tecnologia deve essere messa al servizio dell'uomo e non viceversa, iniziative come queste sicuramente vanno nella giusta direzione. Rinnovo quindi il mio saluto, il mio ringraziamento e di cuore vi auguro buon lavoro. Ciao!